Avete visto l'inizio dell'incontro con gli ospiti all'offensiva che con Junior solo dopo sette minuti passano a condurre. Il calcio piazzato del brasiliano scavalca la barriera e risulta imprendibile per Castellino. Al ventiquattresimo il pareggio dei padroni di casa propiziato proprio da Junior che atterra Celestini in aria. Redini non ha dubbi e Maradona con pregevole finta spiazza Martina. Ripresa trascorrono cinque minuti e per il punteggio la storia della partita si ferma qui con il definitivo vantaggio dei padroni di casa. Tocco smarcante di Bertoni, fulminia la conclusione di Caffarelli.